ogni mattina quando apro l'agenzia penso a quanto amo questo lavoro alle espressioni negli occhi di chi scopre quella che sarà la sua nuova casa alla soddisfazione di chi ha venduto casa prima è meglio grazie a me mi chiamo loretta agnelli e sono un video agente immobiliare orgogliosa di esserlo